ragazzi benvenuti in questo nuovo episodio oggi parleremo di sanni andrius chi è stasani ragazzi stanni è una professionista nella categoria wellness aveva anche tantissimo successo nel 2021 arrivata addirittura in top 6 al suo primo mistero olimpia nella categoria wellness lei è una dottoressa più che dottoressa si sta specie si stava specializzando come chirurga ma purtroppo è stata radiata dal suo posto di lavoro mettiamo giusto a che puntino sulle leggi stanno tutte le prove su internet comunque il perché è stata radiata dal suo posto di lavoro le motivazioni sono due la prima è perché in un esame ha letteralmente copiato tutto quanto da ecco da una sua collega seconda motivazione è perché hanno mi hanno beccata pubblicare contenuti foto video po strattino no grafici online ecco il perché è stata radiata dal suo posto di lavoro comunque detto ciò io adesso mettere questa clip andiamo vediamo veramente al fulcro del video dimmi cosa noti subito ok 123 queste sanni andrius mister olimpia 2022 poi vi mostro di com'era nel 2021 da top 6 qui ha fatto ultimo con l'outlay sicuramente già avrei notato il perché adesso guardiamo guardiamo il gluteo guardiamo gluteo quanto è sproporzionato rispetto al resto del corpo anche se possiamo notare il femorale molto più acquoso però questo qua non c'entra niente la condizione guardate quel gluteo in molti dicono che ha fatto ricorso alla chirurgia estetica per quanto è sproporzionato il suo gluteo ok e ragazzi ve lo posso dire adesso lei si è letteralmente rovinata la sua carriera quel gluteo è del tutto fake sembra molto brutto adesso lei lei ha anche pubblicato dei video dove mostra che non ha fatto ricorso alla chirurgia con delle immagini a risonanza magnetica però prendiamo un momento l'anatomia del gluteo come è fatta il suo gluteus medius non ha senso va contro gravità ragazzi le fibre muscolari non possono andare contro gravità come lo mostra il suo gluteo io adesso vi mostro questa clip guardiamo questa clip di lei nel 2021 guardate che differenza qua era bellissima ok aveva sempre un gluteus maximus molto sviluppato il suo punto forte i giudici hanno detto sviluppa un pochettino di più il gluteus medius così avrà una forma un po più ecco bilanciata tra virgolette ma lei ha letteralmente esagerato io adesso vi mostrerò l'equip della sua ultima gara di qualche settimana fa all'arnold classic questa era lei ha messo l'impio adesso guardate guardate questa mi direi di qualche settimana fa giudicate voi già già da qui si può notare una sproporzione abissale del suo gluteo ed è un grandissimo peccato perché aveva moltissimo successo in quello che stava facendo una grandissima tre da wellness e in questa gara di qualche settimana fa all'arnold classic indovinate il suo piazzamento ebbene si è arrivata ultima ormai i giudici hanno fatto la loro decisione e come ho detto ragazzi per me lei si è letteralmente rovinata la carriera in una clip ecco di questo video qua adesso ve lo metto qui sotto lei dice che questo questo gonfiore ecco questo questo gluteo così grosso soprattutto nella zona del gluteus medius sia dovuto a iniezioni locali di igf1 che è praticamente un ormone vi posso dire con certezza che l'igf1 non crea questo genere di o gonfiore o ipertrofia l'igf1 ragazzi non crea crescita muscolare nella zona dove esso viene applicato quindi una grandissima cazzata questa qui una clip sua di tre anni fa guardate che differenza abissale qui possiamo vedere una bella ragazza con un gran bel gluteo molto sviluppato sì ma un gran bel gluteo un'altra clip qua in palestra stessissima cosa bella ragazza con un bel gluteo sviluppato e questa qua è lei attualmente adesso ditemi voi se secondo voi non fa utilizzo di fillers non voglio dire che fa utilizzo di sintol questo non lo so ma sono quasi sicuro al 100 per cento che fa utilizzo di qualche genere di filler su internet dice che non fa utilizzo di fillers eccetera eccetera ormai ha ormai si è costruito una fan base di haters abbastanza grande che gli danno molto contro infatti lei cancella moltissimi commenti e mi dispiace vedere queste cose perché era una grandissima atleta giusto per farvi rendere conto di una cosa lei è la campionessa in carica della divisione wellness due volte di fila campionessa al mister limpia una bellissima atleta con un fisico stupendo ok poi questo è il mio punto di vista ognuno ecco ha i suoi punti di vista per quanto riguarda fisici eccetera eccetera io la trovo stupenda tra l'altro è anche una madre adesso è moltissimi la chiamerete anche una milf stupenda ragazzi lei è la campionessa in carica della divisione wellness bel gluteo che che ha un'armonia stupenda insieme le gambe e l'upper body come ho detto forse a molti non piaceranno le sue gambe molto grosse grosse o comunque tirate io la trovo veramente stupenda questa qui ragazzi è sunny andrews al mister olympia 2022 nuovamente per farvi rendere conto della differenza che c'è come quel gluteo sia totalmente sproporzionato rispetto le gambe è brutto da vedere ormai i giudici hanno fatto la loro decisione penso che sunny andrews si sia distrutta la sua carriera completamente distrutta è davvero un peccato perché guardate la prima com'era ragazzi questa qua una clip di lei prima era bellissima era veramente una gran bella atleta un gran bel fisico gluteo non fake come ce l'ho attualmente e come ho detto un peccato ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un like un commento sempre molto gradito io voglio ricordarti di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto di attivare la campanellina per non perderti i prossimi episodi e come al solito ragazzi noi siamo al prossimo episodio vi mando un abbraccio grosso a tutti quanti ciao ragazzi